E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche questa mattina torna al nostro appuntamento lunedì mattina con il Morning With Crypto L'appuntamento che ci accompagna da lunedì a venerdì con le principali news di mercato con quello che è accaduto nella notte andremo ad analizzare un pochettino ancora la situazione perché su Twitter si fa sempre più calda infatti continuano a emergere documenti, dichiarazioni smentite insomma su possibili coinvolgimenti di investimenti all'interno di Luna Ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro riadimento a me aiuta davvero tanto col canale Se siete nuovi l'invito è quello di iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma i contenuti che faccio sono veramente anzi sono prettamente time sensitive Ciò significa che vederli subito trovo maggiore applicazione che vederli già dopo qualche ora basta non perdiamo altro tempo date un'occhiata nel link che trovate sotto in descrizione e partiamo Allora partiamo dalla prima news perché in realtà è emerso un tweet dove sembrerebbe che effettivamente tutto quello di cui si era parlato appunto Ricordiamo bene il tweet di CZ insomma critico nei confronti di Luna dicendo Binance non ha mai investito niente in Luna E' uscito appunto questo tweet dove sembrerebbe che ci sia stato uno stage di investimento di 300 milioni di dollari di Binance tra agosto, anzi ad agosto 2019 E' appunto riportato qua dove c'erano queste allocazioni, questi si tratta di dei private sale ok quindi delle vendite private di token magari ad investitori accreditati E vedete che appunto escono questi nomi qua e viene chiesto appunto spiegazioni Tecnicamente non c'è niente chiaramente di ufficiale questi sono degli screenshot però quello a cui fa riferimento poi CZ è quello di dire Non ne abbiamo mai investito probabilmente questa cosa qua deriva da un ex valutazione di investimento di fundraising del progetto che però non è mai stata conclusa Ok questa è stata più o meno la risposta che è arrivata Staremo a vedere ovviamente a mio parere non c'è nulla di male se Binance ha investito comunque dei soldi su terra perché comunque si parlerebbe in quel caso comunque 2019 Quindi niente di particolare ok ci può stare un investimento ognuno fa ciò che crede e ciò che vuole con i propri soldi Però appunto andava un po' in essere discordante con la dichiarazione successiva riguardo appunto la possibilità di non aver investito nulla di cui parlava Binance Però staremo a vedere appunto non sono documenti ufficiali sono documenti un po' così insomma Quindi potrebbe essere comunque una bozza di un documento che poi in realtà non rispecchia la verità ok non la sappiamo Così come si è schierato anche Vitali che insomma che è andato a fare un po' di un po' di a parlare un po' della situazione di Westy Quindi andando a difendere quelli che sono i piccoli investitori ok quindi tutto quello che è non le whales ma appunto gli investitori minoritari Questo perché secondo lui dovrebbero essere imborsati per il DPEG di UST e appunto quest'operazione ha stimato un costo tra 1 billion e 1.5 billion per andare a repeggare o meglio a rimborsare Quelli che sono gli UST holders staremo a vedere sicuramente è una situazione di dibattito molto ampia a riguardo appunto perché si tratta comunque di situazioni un po' borderline Anche capire chi rimborsare chi rimborsare chi non rimborsare perché dovrà rimborsare uno non l'altro Anche da magari come fai a differenziare delle whales magari si hanno tanti account con tanti fondi separati Non lo so, rimane a me sempre un po' differenziare in questo modo qua diventa un po' forse troppo una situazione borderline Preferirei più una linea, una decisione unica che vada in una direzione di un protocollo che sceglie una strada da intraprendere Piuttosto che spezzettare così e fare delle discriminazioni Ripeto, ma non tanto perché non ha senso proteggere i piccoli investitori, anzi sono completamente d'accordo su questo Ma perché non si ha la possibilità di identificare correttamente un piccolo investitore Perché, ripeto, una persona che magari ha un milione di dollari Vi va a spezzettare il suo portafoglio in 100 account Ok, cosa si fa? Nel senso, non si riesce a tenere monitorato? Non si riesce a dire che quello è un piccolo investitore? Non lo so, rimango sempre un po' scettico a riguardo Anche perché si tratta di DeFi e quindi applicazioni decentralizzate Non senza che gli AC e quindi diventa complesso identificare un soggetto Quello che invece è successo al presidente Bukele Che in realtà è stato attaccato in questi giorni un po' per la sua rimozione dei laser eye Dalla sua Twitter che poi in realtà sono tornati E' quello che ha annunciato appunto una riunione in El Salvador Per discutere dei Bitcoin con 32 banche centrali e 12 autorità finanziarie Qui si vede appunto quali sono le situazioni coinvolte Vedete, sono sempre molto 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 piccoli Si tratta di stati molto piccoli Uganda, Haiti, Burundi, Guinea Insomma, chi più ne ha più ne metta Sono tutte situazioni che ripeto Ci si basa prima di arrivare a uno stato grande Su stati molto piccoli che cercano un pochettino l'occasione Per potersi rilanciare Ed è chiaro che si vada in quella direzione lì Che Salvador si faccia porta bandiera A mio parere di queste situazioni qui Saremo a vedere anche questa situazione abbastanza interessante Anche perché sembra abbia ritornato pienamente in campo con i suoi laser eye Quindi sappiamo Almeno non ha fatto volta faccia Come alcuni pensavano O comunque credevano Almeno per il momento è così Andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore Troviamo hardware più 21 Troviamo di Creed un più 17 Cosmos un più 15 Neam un più 14 E-Cash un più 13 Solano un più 11 Insomma, abbiamo abbastanza gainers E' stata comunque ieri una giornata abbastanza positiva di recupero Tra i losers troviamo Terra Ancora più o meno 8,52 17 centesimi Troviamo Helium Che fa un meno 2 Degraff un meno 2 Ma poi lo vedete Non c'è altro che sono stable fondamentalmente E questo perché? Perché effettivamente ciò che è successo Ieri Diciamo E' stata una giornata positiva Una chiusura a bene al di sopra dei 30.000 31,2 Ma ripeto Guardate i volumi Volumi ancora più bassi del sabato Quindi praticamente nulla di particolare E oggi abbiamo riaperto in correzione Come era da aspettarsi Ok? Abbiamo ritestato i 30.000 dollari Andiamo a vederlo a livello orario Che cosa è accaduto Perfettamente Abbiamo ritestato i 30.000 dollari Senza neanche particolari volumi Ok? I bearish Per andare lì E siamo stoppati in questo momento Perfettamente da 200 EMA oraria Ok? Altra media Importante Perché non la passiamo da parecchio tempo Ok? Questa media Intanto ci ha fermato Ora il prezzo sosta sulla 26 oraria Ma ripeto La giornata è appena partita I volumi non sono ancora particolarmente presenti Quindi si mantiene ancora Una situazione abbastanza Cauta Anche perché volendo Qua potreste anche tracciare Una trendline di supporto Ma personalmente Non è una cosa che mi piace fare Soprattutto in condizioni di mercato Con questi volumi Perché trovano veramente Cioè si rischia di fare Principalmente errori A tracciarle in quest'ottica qua Ma in queste condizioni di mercato qua Per quello che riguarda la dominance Rimane molto bullish Anche se sta triangolando tantissimo Lo vedete molto bene La triangolazione Potrebbe essere un pattern di continuazione Una pennant di continuazione Cosa che a me non piacerebbe vedere Chiaramente perché Potrebbe essere difficile per l'alcoin In seguito A un eventuale dump Se invece il prezzo Dovesse fare una bella leg up di bitcoin Sarebbe meno impattante Ok? Sicuramente per tutto il settore Però staremo anche qua A osservare bene la situazione Oggi è mattina Quindi io cerco di fare di più Un overview del tutto La total Si mantiene sugli 1.30 Praticamente trillion Tiene questo supporto qua Però anche qui Non siamo ancora fuori pericolo Detto ciò Io non voglio aggiungere altro ragazzi Perché appunto questa mattina Sapete Facciamo un po' un briefing Da situazione E poi ci aggiorniamo questa sera Con i contenuti di analisi tecnica Dovremo molti più dati Molte più informazioni Per poter discutere assieme Come sempre Se questo contenuto Vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale Con il clic sulla campanellina Prima di essere sempre aggiornati E noi ci aggiorniamo Domani Anzi no Che dico domani Stasera Con l'update di analisi tecnica Ciao a tutti ragazzi